Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad una nuova puntata di League of Legends Questa volta proviamo Caitlyn Avevamo già provato a registrare un po' con Caitlyn C'è stato un problema E spero che questo problema non si... Che cazzo stai creando Guarda che bello Guardami Guardami Aspetta, aspetta, aspetta Vai Ci sono E questo? Perché i batteregolano? Hai dimenticato il Zing Addirittura sono così intelligenti Ci pensi? In ogni caso ragazzi c'era stato un problema con la passiva di Caitlyn Tipo stavamo a 30 minuti di registrazione Che stavamo ancora cercando di far proccare la passiva di Caitlyn Pensiamo che è stata colpa della skin che avevo addosso Che cos'era? Caitlyn Agente Caitlyn Agente Caitlyn Pensiamo che fosse... Oddio guarda che cazzo ti vi... Guardali Ma perché quando uso Bardi io dico Guarda quanto è carino tu perché non mi caghi? Ma guarda con la skin Guarda i Mippy Io non c'ho i soldi per la skin di Bardi Guardali Sono bello Ti faccio una calpattina Tu non stai bene Mi vado a prendere un nippo ciao Sì vabbè ho capito che non ti avrò mai a fianco in questa partita Sono Bard Che c'è il Bard sta a fianco Guarda non ci sei tu Guarda guarda mi vanno aggressivi su di me Guarda la cattiveria Mammo C'ha... Hai mancato già il primo skill shot E hai bloccato due volte e autoattacco Vai Gibba ce la puoi fare Beh allora ci serve il livello 2 per cominciare Ma ti giuro se non funziona manco stavolta la passiva Io mi incazzo con la Riot Preso Eeeh Main Ti stupro la sorella Proviamo Flash Flash apposta eh Ma vaffanpura mamma Quella grande stronza E lei l'ho avvertito mezz'ora prima Aspetta vediamo se funziona la passiva Ok Ok ma me lo mette Ah no ok Poi è un nippo Che babbiamo la passiva Ma questo è un nippo o una cura? Funziona Funziona Oddio Aspetta non voglio cantare vittoria Perché pure prima una sola volta ha funzionato Aspetta eh Aspetta Proviamo Ci sei? Vai Jarvan Vai sulla trappola Ti prego Ne metto tre Porco Poi Clero Prima o poi ci deve andare su una trappola Dai Dai Eeeh Eeeh E dai raga Guarda non vanno perché ci sta la trappola No Kiba Funziona solo una volta Una Minchia Si Funziona Nel senso che è buggato È buggato Funziona solo una volta È un bug Dobbiamo riportare questo bug di merda Ma perché non fuggi eh Vedi Ci è andato sopra Poi io ma non gli facevo danno Pure tipo a lui Vedi non gli faccio il danno della cosa Vabbè raga Eeeh Diciamo che la passiva Base Nuova di Catelyn Non va Non funge Non funge purtroppo Vediamo un po' Vediamo un po' come va Il resto della partita Magari si riviglia In ogni caso ragazzi Ve la spiego a voce La passiva nuova di Catelyn È questa qui Quando Catelyn colpisce un nemico con la rete Quindi con la E Oppure un nemico va a finire sulla trappola di Catelyn Quindi la W Katelyn guadagna il doppio del raggio Che sarebbe quell'animazione che vi faccio vedere Aspettate E no vabbè se ne va L'animazione che succede quando vanno su una trappola o sulla cosa Quella cosa blu che si mette dietro al nemico Quello è il limite massimo di raggio Katelyn Cosa succede? Quando esce quel raggio Critta Ed è il doppio del raggio aumentato Tutto qui Cosa altro hanno cambiato? Hanno cambiato che la W Ora Cioè le trappole Si staccano fino ad averne Tre e le puoi mettere consecutivamente Però hanno il cooldown aumentato Però Questa animazione Vedete? Non me la fa funzionare Mannaccia la miseria Purtroppo queste cose su PB accadono Spero che funzioni solo con Katelyn Non ci siano problemi anche con gli altri Oh Mippy Mia nocciolina No si fa Oh una Quelli non sono Mippy Vedi che sei ignorante con Bard Eh lo so Non sono Mippy Quelli sono campanelle A me piace Però diventano Mippy No Solo dopo un determinato momento Diventano Mippy Ok ragazzi Di tacito accordo Visto che con Katelyn Senza quella passiva Da vedere Non c'è molto Non è come i Gravis Che hanno cambiato un po' più di cose Abbiamo deciso che Terminiamo qui Direttamente la puntata Vai che lo uccidi Vai che lo uccidi Vai che muori Se lo uccidi Vai Vai Ti filmo Ti filmo Vai Flash agli in faccia Allora se gli fai un flash Culo ammazzi Non è il flash Nella cu Lol Vabbè ragazzi Quindi Magari Ne potremmo fare un'altra Quando Aggiustano questo fatto Ma al momento che stiamo giocando noi Sul PBE C'è questo piccolo bug Di Katelyn Quindi Ci vediamo Alla prossima puntata Con gli AD Carry E anche se non è granché Lasciate comunque un bel mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Ciao ragazzi Ciao